Oggi parliamo delle jumping ants. Le jumping ants sono degli insetti australiani. Sono delle formiche pericolosissime perché le fanno molto male. A me per fortuna non mi hanno pizzicato, però hanno pizzicato la mia amica Giada e le ho fatto molto male. Le jumping ants sono un po' nere e un po' rossi oscuro e poi loro hanno le antenne e hanno molti zampi. E le jumping ants abituano dentro un buco che fanno sotto la tenda. Devi fare attenzione di non mettere i piedi sopra. E neanche a eppoggiarsi se è dubito perché sennò ti pizzicano il culetto. Le jumping ants sono molto forti forti e fanno dei salti alti alti. Eppure in campagna ci sono le jumping ants e poi invece le persone dicono attenzione che ci sono le jumping ants. Dentro la loro torna sono tantissime che se ti metti un bastone dentro salgono salgono e se lo lasci poi invece le cose molto veloce in macchina non ti prendono. Penso che pure quelle dei film di Yana Jones sono jumping ants, quelle che hanno mangiato i cattivi di Yana Jones. Poi invece quando avevo visto il film e avevo un po' di paura e non l'avevo guardato. Avevo invece girato la faccia dalla sapata al cinema. Ma però il film mi è piaciuto moltissimo perché a me Yana Jones piacciono. E c'è pure anche le costruzioni con la frusta. Poi invece nel Lego ho quelle foibiche grandi grandi che invece le jumping ants sono fatte a chiedere che hanno un grande e cosa rotonda che non so cos'è. Quindi fate tutti molto attenzione alle jumping ants perché sennò ti pizzicano e fa molto male. Grazie per la visione!